Nuovo assalto nella notte ad una ditta orafà di Arezzo, la Multiform di Quarata. Un blitz studiato nei minimi dettagli, in una manciata di minuti la banda ha fatto man bassa di preziosi. Attorno alle 3 di questa notte i malviventi, utilizzando come riete una lancia Ypsilon presumibilmente rubata, sono riusciti ad aprire questo cancello. Poi utilizzando sempre la stessa auto i malviventi sono riusciti a creare un barco d'accesso all'azienda. Una volta dentro hanno fatto saltare in aria le casseforti e fatto razzia di oro ed altri metalli preziosi. Si parla di un milione di euro circa di valore, ai quali si aggiungono gli ingenti danni che la banda si è lasciata alle spalle. 20 minuti circa è stato il tempo in cui i malviventi hanno portato a termine il colpo. I ladri hanno anche bloccato la strada segando tronchi di alberi poi gettati nel mezzo della carreggiata, ostacolando l'arrivo delle pattuglie dei carabinieri e delle guardie giurate allertate dal sistema d'allarme. Si è pulito tutto perché la tiene ogni cosa. Ha tagliato con le due piante rosse là, se lo vedete dai mozziconi che c'è rimasto. E avevano bloccato la strada. Adesso è caccia alla banda. I carabinieri indagano anche attraverso la visione dei filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'intera zona. La banda infatti ha girato le telecamere dell'azienda verso l'alto. La tecnica è la stessa utilizzata lo scorso marzo, sempre nell'aretino, per un furto in un'altra azienda orafa.